Emiliano piace sempre meno, crollo dell'indice di gradimento secondo la classifica SVG, il governatore ultimo della top 10 dei presidenti di regione. L'Axilella avanza verso Bari, l'allarme lanciato dai ricercatori del CNR dopo un monitoraggio sugli olivi pugliesi. Il parroco dei ragazzi, il nostro focus con il direttore del Redentore Don Francesco Preite sul fenomeno delle baby gang a libertà. La nuova officina degli esordi, il nostro live dallo spazio riqualificato che si candida a diventare centro socioculturale a cavallo tra il libertà e il miurà. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Lo avete sentito già dai nostri titoli, vertiginoso crollo del gradimento del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che nel sondaggio effettuato da SVG finisce all'ultimo posto. Sentiamo. Un crollo vertiginoso o una debacle, tanto per utilizzare un termine in voga ultimamente. Fatto sta che il governatore pugliese, Michele Emiliano, finisce nella classifica sull'efficacia dell'operato dei vari presidenti di regione al decimo posto, decimo posto su dieci. Nel sondaggio elaborato da SVG che si riferisce al periodo febbraio-marzo, Emiliano guadagna solo il 23% dei consensi, con un calo rispetto allo scorso anno di ben 10 punti percentuali. Sono invece Luca Zaia e Stefano Bonaccini i governatori più apprezzati dai loro concittadini. Il presidente del Veneto Zaia, della Lega, incassa il 56% dei voti di coloro che giudicano molto efficace e abbastanza efficace il suo operato, confermandosi unico tra i suoi colleghi a superare la soglia della maggioranza assoluta dei consensi. Lo segue il Dem Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, che sfiora la maggioranza toccando quota 47%. La medaglia di bronzo va Enrico Rossi, libero e uguali, governatore della Toscana, con il 36%. E ad un passo dal podio si ferma Nicola Zingaretti del PD, appena riconfermato presidente del Lazio, con il 32% dei consensi. E allarme sulla salute degli olivi pugliesi. La xerella fastidiosa sta avanzando verso Bari. Ce lo spiega Donato Boscia, dirigente di ricerca del CNR, a margine dell'incontro scientifico sul tema. Sentiamo. La situazione è che purtroppo noi assistiamo ancora ad un'ulteriore evoluzione, cioè l'epidemia continua ancora ad evolvere, sia pur probabilmente con minor velocità rispetto alle fasi iniziali, però in questo momento noi sappiamo che rispetto a quella che era l'aria iniziale nei prossimità di Gallipoli, che quattro anni e mezzo fa interessava un territorio che si tendeva per una lunghezza di circa una decina di chilometri, adesso abbiamo un territorio interessato che si stende per ben 120 chilometri a distanza di quattro anni e mezzo e che ormai come focolai più settentrionali è prossimo, sfiora quasi la provincia di Bari e come conseguenza abbiamo saputo proprio adesso, diciamo in questa occasione dai funzionari del servizio per che è stato appena aggiornato come conseguenza la demarcazione dell'area Cuscinetto, per cui per la prima volta adesso viene interessato anche un primo lembo della provincia di Bari e in particolare soprattutto il comune di Locorotondo, per la parte estera dell'acro di Locorotondo. Quale futuro si prospetta per gli olivi pugliesi e a questo punto anche baresi? Niente, noi intanto dobbiamo cercare di essere ottimisti, intanto dobbiamo cercare laddove possibile il più possibile di mettere in atto le misure necessarie per il contenimento e una delle più importanti è quello che ho poco anzi accennato. Questo è con un po' di ottimismo, guardando poi a quello che nel frattempo si cerca di ottenere con l'attività di ricerca, sperando che nel frattempo si trovi qualche soluzione stabile. Contrastare la fragilità dei minori entrati nel circuito penale dando loro la possibilità di un riscatto sociale. Nasce il progetto Sicurezza. Sentiamo di cosa si tratta. Contrastare la fragilità delle persone dando loro un'opportunità di riscatto e di reinserimento sociale si chiama progetto Sicurezza ed è promosso e monitorato dal Centro per la Giustizia minorile per la Puglia e Basilicata. Ed è rivolto ai minori, appunto, quei minori che hanno già alle spalle procedimenti penali, considerati a rischio e sulla cui testa appende la croce dello stigma sociale, macchia indelebile per molte porzioni della società. Ed è a questo che si oppone la comunità educativa minorile Chiccolino che dà la possibilità a questi ragazzi di frequentare un corso di 40 ore per ricevere l'attestato di operatore di vigilanza non armata. Obiettivo orientare e definire una progettualità per questi ragazzi mirata all'inclusione e all'integrazione sociale. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città. Accanto all'assessore al welfare Francesca Bottalico, gli ideatori del progetto Raffaele Diomede e Pietro Battipede, il presidente della cooperativa Occupazione e Solidarietà Giuseppe Moretti, il direttore del centro per la giustizia minorile di Puglia e Basilicata Giuseppe Centomani e infine il responsabile dell'istituto di vigilanza privata Pelicanus Nicola D'Ambrosio. E torneremo sull'emergenza e sicurezza nel quartiere Libertà. Lo faremo nell'ultimo spazio del nostro telegiornale con il direttore dell'istituto oratorio salesiani del Redentore Don Francesco Preiter. Restiamo su Libertà perché l'ex manifattura ospiterà una stazione dei carabinieri. La giunta ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione dei lavori, un passo decisivo per l'avvio dei lavori già finanziati con 800 mila euro. La caserma sorgerà al piano terra su un'area di 520 metri quadri su via Pietro Ravanas. Ancora cronaca, ha portato via una borsa da un negozio e si è dato la fuga convinto di aver ormai portato a casa il bottino ma non aveva fatto i conti con lo spirito combattivo e il senso civico di due ragazzi che lo hanno rincorso, bloccato e consegnato alla polizia. È accaduto questa mattina poco dopo le 10 in via Batigimma nel tratto compreso tra via Sparano e via Argiro. L'uomo che stando a quanto preso sarebbe di nazionalità georgiana una volta bloccato avrebbe lamentato un malore probabilmente nel vanno tentativo di sottrarsi agli accertamenti della polizia. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118. E parliamo di un progetto Zero Cani in Canile. È nato dalla mente dell'esperta di marketing Francesca Toto, presto proderà anche a Bari. L'obiettivo è svuotare i canili e sensibilizzare i cittadini al rispetto nei confronti degli amici a quattro zampe. Sentiamo. Zero Cani in Canile, un progetto che è stato avviato in diverse regioni d'Italia, un progetto che vuole sensibilizzare all'adozione e non solo. Sì, è un progetto, infatti il progetto si chiama Zero Cani in Canile, il randaggismo da peso, quale è adesso, a risorsa sociale ed economica. Perché effettivamente combattendo il randaggismo si possono sviluppare tutta una serie di economie che portano un grande beneficio al territorio. Oltretutto la Puglia, con questa grande vocazione turistica, potrebbe diventare la prima regione animal friendly. Ecco, un progetto che ha tante idee, tanti punti che avete svelato oggi qui a Palazzo di città. Svediamone qualcuno. Il progetto si basa fondamentalmente sull'educazione. Educazione della popolazione, che è l'aspetto molto trascurato. Ma solo l'educazione della popolazione e la corretta gestione degli animali risolve il problema. Ovviamente, non essendo al momento la popolazione così educata alla cosa, c'è bisogno della costituzione di una task force di controllo. Non si microcippa, non si sterilizza, quindi una task force è importante. Le sterilizzazioni sono fuori discussione, sono una delle armi più importanti e poi per i canili bisogna cominciare a riconvertirli. Cioè è impensabile che oggi delle associazioni pensino ancora a costruire i canili. Tampabarese per il Non ci ferma nessuno tour di Luca Abete. L'inviato di Sfiscia la Notizia ha incontrato tantissimi ragazzi per spiegare come affrontare le difficoltà della vita con un sorriso. Guardiamo. Mi verrebbe da dire, popolo di Bari, non ci ferma nessuno tour, si è alla quarta edizione, ma perché giri le università, parli con i ragazzi? Ma sì, perché ho capito che i ragazzi hanno tante cose belle ma magari non riescono a tirarle fuori come dovrebbero. Io raccontando la mia storia ho capito di avere un piccolo potere terapeutico per sconfiggere le paure e magari riuscire a trasmettere loro quell'entusiasmo, quel coraggio che serve. Io giro ormai dal 2014, a Bari siamo venuti ogni anno per ribadire un concetto importante. Le difficoltà esistono per tutti ma la differenza la fa la capacità di rialzarsi dopo una caduta e magari più volte si cade, più volte ci si rialza e magari ci si allena a diventare un po' più invulnerabili alle difficoltà che la vita ci pone davanti. Solo in questo modo si può urlare e non ci ferma nessuno. Come ci si può avvicinare a non ci si ferma nessuno? Noi abbiamo un sito, abbiamo i social network, una piattaforma molto ricca, ogni giorno mettiamo video, foto, cerchiamo comunque di comunicare con i ragazzi nel modo più giusto possibile. I ragazzi sono carichi, ci seguono dappertutto, non fanno mancare il loro supporto e noi cerchiamo di dare loro il meglio che possiamo. E anche qui a Bari i ragazzi sono carichi, i ragazzi sono carichi e se non ci credete ve lo faccio dire da loro. 3, 2, 1. Non ci ferma nessuno! Ve l'ho detto no, sono carichi. Kit sportivi e materiali per le palestre. L'associazione Bari App ha consegnato alla dirigente della scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga di Iapigia, Patrizia Rossini, il materiale acquistato dopo il tradizionale evento benefico Sport Day destinato ad attrezzare la palestra scolastica dell'istituto. Abbiamo ricevuto una straordinaria accoglienza da parte degli alunni, ha affermato il presidente di Bari App Roberto Tartaro. Siamo particolarmente fieri di aver fornito il nostro contributo alla scuola, intesa come istituzione nell'importante ruolo educativo che quotidianamente svolge. Al via la settima edizione di Orizzonti Solidali, il bando di concorso della fondazione Mega Marca Sostegno delle iniziative di responsabilità sociale in Puglia. Cresce in Puglia l'interesse delle associazioni del terzo settore impegnati a portare avanti i progetti nell'ambito dell'assistenza sanitaria, del sociale, dell'ambiente e della cultura. A loro è indirizzato il bando di concorso Orizzonti Solidali promosso da Mega Marca, azienda leader nel settore della distribuzione. 250 mila euro le risorse destinati alle associazioni che parteciperanno alla settima edizione del concorso, che finora ha permesso di realizzare più di 60 progetti con un sostegno economico di oltre un milione di euro. Per iscriversi è necessario consultare il sito www.fondazionemegamark.it. Non semplici finanziatori, ma sostenitori di sogni, tiene a precisare Giovanni Pomarico, presidente della fondazione Mega Marca. Noi siamo qui per sostenere i sogni di una miliardia di persone che hanno poi come elemento vincente la partecipazione di questi ragazzi del volontariato che a noi affascina, che a noi si interagiscono con noi spendendo molto bene il finanziamento che noi gli concediamo. Ospite d'eccezione alla presentazione del bando, il campione olimpionico Yuri Chechi. Io credo che quando hai un obiettivo molto preciso, chiaro, come quello che molte di queste onlus hanno, nei momenti di difficoltà puoi trovare una, nel cambiamento dell'opportunità, andare avanti con le proprie convinzioni, cercando di ascoltare, di modificare se qualcosa è sbagliato, ma se non arrivi all'obiettivo è perché c'è stato un errore, quindi non devi scoraggiare o dire che è la colpa di qualcos'altro, della fortuna o della sfortuna. Trovi l'errore, cambi la tua strategia e poi l'obiettivo raggiungi. Bene, ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, tra poco commenteremo i principali fatti di questa giornata con il giornalista scrittore Michele Cristallo, tra poco. Recoci ancora qui in diretta, pronti per la rassegna stampa, in compagnia del giornalista scrittore Michele Cristallo. Ciao Michele, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, partiamo subito dal nostro live, oggi siamo in diretta dall'Officina degli Sordi che ha riaperto dopo una riqualificazione che si candida a diventare centro socio-culturale a cavallo tra i quartieri Libertà e Miurale. Inviata di questa sera per noi è Barbara Cirillo. Barbara, buonasera. Sì, buonasera Alessandro, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Beh, è sbocciata, nonostante il freddo, la primavera. Qui a Officina degli Sordi lo potete vedere dai colori di Spine che è una delle componenti della nuova vita dell'Officina degli Sordi. Sì, tanti fiori, tanti profumi, ma anche tanti, tanti libri. Buonasera ad Elisabetta Mauro Giovanni. Buonasera, appunto Spine è un'associazione culturale che si occupa di promuovere libri legati alle immagini. Cavalcando l'onda appunto della primavera abbiamo deciso di far fiorire fiori in mezzo ai libri perché stiamo partecipando a un contest, Libreria in Fiore, 2018, organizzato dall'associazione, dalla casa editrice Logos Edizioni. E appunto abbiamo invitato i ragazzi della Puglia Racconta che è un'associazione costituita appunto da illustratori che stanno realizzando delle immagini che andranno diciamo ad essere applicate vicino ai fiori in modo tale da far fiorire anche immagini. Ancora di più, ha sempre più fiori, fiori di carta. Come potete vedere dalle immagini che vi mostrerà ora il nostro Gianluigi Maggi, ecco tanti bimbi, ma soprattutto tante mamme perché i bimbi stanno facendo i fatti loro, stanno giocando, però le mamme si sono ormai divertite a colorare e a creare fiori di carta. Grazie ad Elisabetta Mauro Giovanni per averci illustrato il concetto di Spine. Invece spostiamoci da quest'altra parte perché guardate quanto fermento c'è, quanta creatività, ci sono anche giovani illustratori all'opera. Spostiamoci nella zona di 2Play, un gruppo di ragazzi che ha deciso di creare giochi di ruolo alla scoperta però delle bellezze della nostra città. Aldo Campanelli, buonasera. Ciao, ciao. Allora, ce ne sono 22, devi cercarli in tutto lo spazio. Stavo spiegando... Il gioco di stasera, che cosa state combinando? Si chiama Quadri Parlanti, praticamente armati degli smartphone. Questi ragazzi devono interpretare i panni di alcuni detective che devono capire perché questi quadri sussurrano e parlano e dicono delle cose strane che sono legate ad una profezia. Che però si svelerà alla fine. Sì, assolutamente sì e dovranno rispondere poi ad un quiz praticamente come funziona. Abbiamo utilizzato questo gioco per mostrare tutti gli angoli dello spazio di afficina degli esordi in maniera tale che la gente non si fermi solo qui dove c'è la musica e il bar ma vada anche a guardare quello che sta accadendo con Squall Open Source, con Dynamo. Lo mostreremo tra pochissimo, Aldo è fatto bene ad anticiparlo. Molta tecnologia, magari beccheremo qualcuno fino alla fine del nostro live che avrà risolto l'enigma. Però ci sono tanti giochi del passato, no? Io vedo lì una trottola che però in Puglia viene chiamata... Virruzzo, esattamente, Virruzzo. Sono molto legato a questa cosa, siamo molto legati a questo oggetto perché abbiamo scoperto essere un po' l'unione delle generazioni dei più piccoli ai più grandi ma anche in tutta l'area del Mediterraneo. I nostri progetti europei ci hanno portato in contatto con diverse culture e abbiamo scoperto che questo oggetto è utilizzato in Sud America, in Tunisia, in Bangladesh ma anche in Asia perché è stato un po' trasportato nei secoli da chi viaggiava, dei viaggiatori che partivano dal sud Europa. Una storia anche dietro i giochi più tradizionali. Io intanto ci provo, tra pochissimo ci provo a lanciare la trottola o Virruzzo, che dir si voglia. Alessandra, ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui dall'Officina delle Sordi. Grazie. Grazie Barbara, potremmo dire dai giochi della vita reale per allietare una serata ai giochetti della politica perché così è stata bollata la decisione del Presidente Emiliano di nominare Di Cagno Vrescia come Presidente del CDA di Acquedotto Pugliese c'è chi parla di svendita di poltrone, di continui acquisti di consensi che fanno storciare il naso soprattutto nella sinistra della maggioranza. Michele. La presidenza dell'Acquedotto Pugliese a Simeone Di Cagno Vrescia non è una novità assoluta, era nell'aria, si sospettava, se ne parlava, del resto il fatto della cosiddetta riconciliazione tra due avversari politici, i quali Emiliano e Di Cagno Vrescia, presupponeva un certo patto. Di Cagno Vrescia sostiene di essere un uomo libero, sganciato dai partiti, però non si può dimenticare che è stato sindaco del centro-destra, è stato parlamentare, è stato deputato per Forza Italia ed è stato avversario del centro-sinistra per un paio di decenni, per tutto il periodo in cui è stato impegnato in politica. E quindi il fatto che Emiliano guardasse a Di Cagno Vrescia fa parte di una strategia politica per catturare altri riservatori di voto. In queste operazioni c'è un DO-TTS e quindi il DO è una poltrona, la poltrona è prestigiosissima dell'acquedotto pugnese, non dimentichiamo che è l'acquedotto più grande d'Europa. Del resto la stessa sceneggiata delle dimissioni nelle settimane scorse di due componenti del trio della passata gestione aveva un disegno ben preciso, non era sincero, tant'è che nel nuovo Consiglio di amministrazione i due dimissionari sono stati confermati. Ecco questo è uno strascico politico particolarmente interessante, c'è già stata la reazione di un consigliere regionale rappresentante di Libere Uguali, Borracino, il quale ha dichiarato che questo inciucio non fa parte della politica della sinistra e quindi ha detto che lui e la sinistra non voterà più con la maggioranza nel Consiglio regionale. Dall'altra parte per quanto riguarda l'amministrazione comunale, il Comune c'è stata una sorta di contromossa di De Caro il quale ha aperto a Libere Uguali, è aperto alla forgia e quindi c'è questo dialogo ripreso a Comune tra centro-sinistra e sinistra dissidente del PD e alla Regione c'è questo dialogo nuovo tra il PD di Emiliano e la destra o la ex-destra di Simeone di Cagno a Brescia. Si va delineando nello scenario politico regionale, una sorta di pasticcio dal quale non si sa come uscirne o dal quale non si sa se uscirne con degnità e soprattutto con l'interesse dei cittadini, dei cittadini indipendentemente dall'appartenenza politica. Una campagna acquisti che è iniziata decisamente molto tempo fa e che probabilmente non ha giovato al gradimento da parte dei cittadini nei confronti del governatore Emiliano. Questo quanto dice il sondaggio dell'SVG che su dieci presidenti di Regione ha certificato il crollo del gradimento di Emiliano al decimo posto tra i dieci presidenti di Regione chiamati in causa. In realtà in qualche modo è una conferma anche quella arrivata probabilmente dai risultati del Partito Democratico, perché per quanto abbiamo sempre detto che le politiche rispondano ad una logica differente, però forse in qualcuno di cui voti c'è anche un voto di protesta. Sì, non soltanto questo. Del resto tutto il partito è in una fase di riflessione. Io un'ora fa ero a Barletta dove è stato ricordato Alfredo Reichlin a un anno dalla scomparsa e c'era Massimo D'Alema, il quale nell'intervento ha detto che è inutile che per il PD e per la sinistra, il PD lo ha nominato pochissime volte, è inutile che la sinistra vada in piazza perché deve riflettere sugli errori che ha commesso. Gli errori commessi dalla sinistra si ripercuotono anche sui rappresentanti della sinistra, anche nelle istituzioni. Per quanto riguarda Emiliano c'è anche da dire che al di là dell'insuccesso del calo di favore del PD c'è il fatto che Emiliano negli ultimi mesi ha fatto più il politico a livello nazionale che il governatore della regione e quindi anche questo è uno sconto che paga nella classifica e nella retrocessione di cui hai appena parlato al decimo posto tra i dieci governatori italiani all'ultimo posto. E a proposito di questioni ancora irrisolte che attengono appunto alla politica regionale parliamo dell'emergenza Xilella. Oggi in un incontro scientifico sul tema è stato ribadito il concetto che era stato già, tra l'altro, sul quale era stato già lanciato l'allarme tempo fa e cioè che la Xilella potesse avanzare verso Bari ebbene l'emergenza sembra più reale di quanto non si pensasse perché si parla della Xilella fastidiosa che ormai sta avanzando verso le culture baresi. Che la Xilella avanzasse verso prima il brendisino e poi verso il barese si sapeva già da oltre un anno. Purtroppo in questa vicenda non si è capito granché c'è stata una sorta di polemica tra il mondo scientifico e il mondo politico. Il mondo politico forse ha fatto una intrusione in debita perché ha ritenuto o ha preteso di poter dire la sua in un argomento che è prettamente scientifico. La Xilella non è stata combattuta a dovere, la Xilella è stata per molto tempo tollerata addirittura. C'è stato l'espianto di alcuni alberi, poi c'è stata la polemica sull'espianto e sul reimpianto possibile. Ripeto, ha tenuto banco soprattutto la polemica tra il mondo della scienza e il mondo della politica. La politica ha sbagliato secondo me a non seguire gli orientamenti degli scienziati perché qui si tratta di combattere una patologia delle piante che esula dalle competenze della politica. È un fatto prettamente scientifico e quindi la parola va data agli scienziati, ai ricercatori, i quali hanno indicato alcune vie che sono state dimenticate. La conseguenza è questa che abbiamo sotto gli occhi di una infezione che si diffonde ed è molto grave perché si attacca il barese e attacca anche una grande fetta dell'economia olivicola meridionale perché è proprio nel barese che c'è la gran parte della produzione olivicola, non soltanto della regione ma addirittura nazionale. Torniamo al nostro live, torniamo alla festa di primavera della nuova officina degli esordi. Allora Barbara, torniamo a te. Allora giochi tanto divertimento ma anche tanto cinema, ci sono dei veri e propri set cinematografici allestiti per l'occorrenza qui all'officina degli esordi. Io do il benvenuto, buonasera soprattutto a Luigi Amarino della Dinamo Film. Buonasera a te Barbara. Proiezione di una meravigliosa stagione fallimentare, insomma un film, un documentario che ha fatto sognare tantissimi tifosi biancorossi e perché non riproporlo anche stasera, ma anche una sezione di trucco, trucco cinematografico, insomma così noi poveri umani capiamo che cosa vuol dire sottoporsi alla mano delle truccatrici prima di un set. Sì, anche cosa vuol dire una trasformazione tra quello che sia normalmente e poi come si può apparire realmente in video, cioè con un po' di lavoro, un po' di trucco, tutti possono sembrare veramente delle persone, delle piccole dive, ecco. Dopo quante ore sedute su quella sedia? Beh, più o meno, diciamo, per le donne dalle tre alle cinque ore è un bel lavoro pesantuccio, diciamo. Eppure sembrano assolutamente naturali nelle inquadrature dei film, questa cosa è pazzesca. La Dinamo che sta combinando in questo periodo? Stiamo seguendo delle riprese su Monopoli e poi ci sono diversi progetti su Roma e quindi ci sono, siamo sempre in movimento. Non vi fermate mai, insomma, vi siete scelti appunto un nome che dice tutto. Grazie, grazie a Luigi Amarino, perché noi ci spostiamo più in là, andiamo a vedere un set fotografico, scusate, di una scuola di cinema e fotografia che si chiama Spazio Tempo, una scuola di Bari. Io vi presento Giovanni Albore che è appena uscito dalla sala audio-video, buonasera. Buonasera. Spazio Tempo, avete scelto di rappresentare degli astronauti stasera. Esattamente, sì, il nome dell'associazione è Spazio Tempo, quindi abbiamo creato questo set simpatico in cui ogni persona, ogni volontario si veste d'astronauta e si fa un ritratto fotografico. Questo ritratto viene scattato e post-prodotto con Photoshop in tempo reale. Quante persone si stanno avvicinando, si stanno incuriosendo, si stanno travestendo d'astronauti? Tantissime, a dire il vero, però non ho portato il conto, chiaramente, però c'è un sacco di gente che si è vestita, si è prestata simpaticamente nel vestirsi d'astronauta. Dalla faccia del modello direi che si sente a suo agio. Sì, sicuramente è a suo agissimo viaggiare nello spazio. E allora, grazie, grazie a Giovanni Albore di Spazio Tempo della Scuola di Cinema e Fotografia. Noi ci fermiamo ancora per un po', ma vi svegliamo altri spazi dell'Officina delle Sordi. A tra poco. Grazie Barbara. L'Officina delle Sordi si candida a diventare un centro socioculturale, come ha detto il Sindaco De Caro, a cavallo tra il quartiere Libertà e il quartiere Murattiano. Soprattutto su quartiere Libertà, dove si stanno facendo molti interventi per ridurre il fenomeno devianza minorile e anche l'emergenza criminalità. Tra l'altro sarà un tema sul quale torneremo nell'ultimo spazio del nostro telegiornale. Ma non bastano le telecamere di videoserveglianza? Purtroppo bisogna partire con strumenti di prevenzione. Sì, non bastano. C'è bisogno di strutture di questo genere, che sono centri di aggregazione, sono centri di formazione, di educazione alla socialità, alla legalità, al rispetto, al senso civico. E quindi vanno salutati con grandissimo favore. La popolazione di questo laboratorio è una popolazione giovane, quindi ha tutte le connotazioni per partire bene verso una società più giusta, una società più consapevole, in un quartiere dove al di là di una gran parte di persone per bene che lavorano, che contribuiscono alla crescita della città e della regione, c'è anche una fetta di criminalità che va combattuta e va combattuta anche con queste iniziative. Allora, siamo in chiusura. Non mi resta che ringraziare Michele Cristallo, giornalista e scrittore. Grazie Michele per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. E noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e torniamo tra poco con altre notizie. Restate con noi. Emiliano piace sempre meno, crollo dell'indice di gradimento secondo la classifica SVG, il governatore ultimo della top 10 dei presidenti di regione. L'Axilella avanza verso Bari, l'allarme lanciato dai ricercatori del CNR dopo un monitoraggio sugli olivi pugliesi. Il parroco dei ragazzi, il nostro focus con il direttore del Redentore, Don Francesco Preite, sul fenomeno delle baby gang a libertà. La nuova officina degli esordi, il nostro live dallo spazio riqualificato che si candida a diventare centro socioculturale a cavallo tra il Libertà e il Miurano. Reccoci ancora qui in diretta per la terza parte del nostro telegiornale. Ripartiamo dal vertiginoso crollo nel gradimento del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che secondo il sondaggio SVG finisce all'ultimo posto. Sentiamo. Un crollo vertiginoso o una debacle, tanto per utilizzare un termine in voga ultimamente. Fatto sta che il governatore pugliese, Michele Emiliano, finisce nella classifica sull'efficacia dell'operato dei vari presidenti di regione al decimo posto. Decimo posto su dieci. Nel sondaggio elaborato da SVG, che si riferisce al periodo febbraio-marzo, Emiliano guadagna solo il 23% dei consensi, con un calo rispetto allo scorso anno di ben 10 punti percentuali. Sono invece Luca Zaia e Stefano Bonaccini i governatori più apprezzati dai loro concittadini. Il presidente del Veneto Zaia della Lega incassa il 56% dei voti di coloro che giudicano molto efficace e abbastanza efficace il suo operato, confermandosi unico tra i suoi colleghi a superare la soglia della maggioranza assoluta dei consensi. Lo segue il Dem Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, che sfiora la maggioranza toccando quota 47%. La medaglia di bronzo va Enrico Rossi, liberi uguali, governatore della Toscana, con il 36%. E ad un passo dal podio si ferma Nicola Zingaretti del PD, appena riconfermato presidente del Lazio, con il 32% dei consensi. E veniamo alla questione presidio padre Pio, saltato l'incontro in task force previsto per oggi, i lavoratori si sono andati a appuntamento sotto la presidenza della regione per chiedere immediate risposte, intanto l'ASL doveva pagare gli stipendi arretrati al posto dell'azienda. L'ASL Bari dovrà pagare le retribuzioni non ancora versate oltre 40 lavoratori del presidio padre Pio. Dopo aver già concesso lo scorso 15 novembre un decreto ingiuntivo che individuava le responsabilità insolito anche dell'azienda sanitaria locale, il giudice Assunta Napoliello si è espresso nuovamente concedendo provvisoria esecutività al provvedimento. Tradotto in attesa dell'udienza fissata per il 4 giugno, gli stipendi per il periodo compreso tra luglio e ottobre saranno versati direttamente dall'ASL. Al momento della proposizione della domanda infatti GMS vantava un credito nei confronti dell'azienda sanitaria locale relativo ai canoni per la gestione del servizio non ancora versati. La richiesta dei lavoratori, spaleggiati, dei sindacati era quella di pagare sin da subito i dipendenti anziché l'azienda, così come previsto dal codice civile in materia di appalti. La norma, spiega il giudice nell'ordinanza, prevede infatti che i dipendenti dell'appaltatore possano agire direttamente nei confronti del committente per conseguire quanto loro dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente stesso ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. La ASD, che dopo la domanda ha scelto di versare comunque le somme a GMS, rischierebbe addirittura di pagare due volte le somme laddove i crediti residui non fossero sufficienti, con la possibilità ovviamente di rivalersi anche sull'azienda attualmente in concordato preventivo. Le organizzazioni sindacali che avevano sostenuto questa tesi sin da principio potranno ora togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Domenico Ficco di Funzione Pubblica CGL ha ribadito. Purtroppo chi doveva approfondire la materia con la sola finalità di rendere giustizia ai lavoratori ha preferito arroccarsi sulla tesi che non trattavasi di appalto piuttosto che non rispondere affatto alle numerose richieste delle organizzazioni sindacali. Intanto, mentre ripartono le procedure per affidare a un nuovo soggetto la gestione di questa fetta di riabilitazione, una parte di torta che fa gola a molti, se si considera che il tetto di spesa anno è di 7 milioni, somma che moltiplicata per il numero massimo di anni potrebbe toccare 48 milioni di euro, l'incontro previsto in queste ore della task force sul lavoro per conoscere le decisioni sul periodo transitorio è saltato per scelta del gabinetto del presidente Emiliano. La cronaca del GIP del Tribunale di Bari Antonella Cafagna ha archiviato il procedimento nei confronti del professor Antonio Quarante e della dottoressa Maria Pia Trisorio Liuzzi, indagati per abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio per fatti risalenti al 2015, quando i due erano rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II. Stando alla denuncia presentata tre anni fa da alcuni medici della stessa struttura, i due indagati avevano adottato provvedimenti sulle modalità di prescrizione dei farmaci chemioterapici che avevano danneggiato i colleghi e i pazienti. Nel decreto di archiviazione il giudice evidenzia al contrario che gli indagati hanno cercato di sanare precedenti irregolarità e che sebbene vi siano state irregolarità procedurali che hanno fatto emergere una cattiva gestione dell'ente a livello organizzativo funzionale tali condotte non possono essere ascritte agli indagati. E allarme sulla salute degli olivi pugliesi, l'epidemia di Xylella fastidiosa non si arresta, riferiscono gli esperti e si estende alle coltivazioni del territorio di Bari, ce lo spiega Donato Boscia, dirigente di ricerca del CNR a margine di un incontro scientifico sul tema. La situazione è che purtroppo noi assistiamo ancora ad un'ulteriore evoluzione, cioè l'epidemia continua ancora ad evolvere, sia pur probabilmente con minor velocità rispetto alle fasi iniziali, però in questo momento noi sappiamo che rispetto a quella che era l'aria iniziale nei prossimità di Gallipoli che quattro anni e mezzo fa interessava un territorio che si estendeva per una lunghezza di circa una decina di chilometri. Adesso abbiamo un territorio interessato che si stende per ben 120 chilometri a distanza di quattro anni e mezzo e che ormai come focolai più settentrionali è prossimo, sfiora quasi la provincia di Bari e come conseguenza abbiamo saputo proprio adesso, diciamo in questa occasione dai funzionari del servizio per i sanitari, che è stato appena aggiornato come conseguenza la demarcazione dell'area Cuscinetto, per cui per la prima volta adesso viene interessato anche un primo lembo della provincia di Bari, in particolare soprattutto il comune di Locorotondo per la parte estra dell'agro di Locorotondo. Quale futuro si prospetta per gli olivi pugliesi e a questo punto anche baresi? Niente, noi intanto dobbiamo cercare di essere ottimisti, intanto dobbiamo cercare laddove possibile, il più possibile di mettere in atto le misure che è necessarie per il contenimento e una delle più importanti è quello che ho poco anzi accennato. Questo è con un po' di ottimismo, guardando poi a quello che nel frattempo si cerca di ottenere con l'attività di ricerca, sperando che nel frattempo si trovi qualche soluzione stabile. Ultimo collegamento con il nostro live in diretta dall'Officina degli Sordi, allora Barbara vengo da te. Sì Alessandra, io do il benvenuto, buonasera a Vincenzo Bellini di Bus Culture perché è targata Bus Culture, la nuova vita dell'Officina degli Sordi, buonasera Vincenzo. Buonasera a tutti e benvenuti all'Officina. Allora, noi vi abbiamo mostrato insomma quelli che sono alcuni degli attori che da oggi in avanti animeranno gli spazi di Officina degli Sordi, però che cosa succederà in questi mesi? L'Officina degli Sordi con la giornata di oggi inaugura la stagione primaverile, quindi abbiamo presentato già tutto il programma fino a giugno e anche qualche anticipazione su quelle che sono attività di luglio. In buona sostanza ci sarà azione di promozione della lettura anche in continuità con l'Associazione Culturale Spine che qui ha fatto la libreria, piuttosto che corsi di cinema, doppiaggio, di design, piuttosto che di stampanti 3D, innovazione tecnologica. Quindi un mix di varie discipline culturali e creative, modalità informale di apprendimento, in modalità diciamo anche per far esplorare quelli che sono i nuovi mestieri della cultura e della creatività e fare da incubatore di impresa per quelle strutture che come Dynamo Film, Bass Culture, piuttosto che la scuola di open source, sono già imprese e hanno necessità di avere una casa comune. Allora Vincenzo, intanto stiamo vedendo qui qualcuno che si allena con la trottola, stasera però si continua, la festa continua con DJ Set e tanta buona musica. Sì, diciamo quello che state vedendo è un pezzo realizzato con 2Play, è quella che in Europa viene chiamata gamification, ovvero quella che quando eravamo giovani noi era la caccia al tesoro, comunque i giochi di gruppo, adesso col QR code e con gli smartphone sarebbe possibile fare i giochi all'interno di tutta la struttura. Insomma un contenitore culturale che mancava davvero alla città di Bari, un grande bocca al lupo per questa nuova avventura, grazie a Vincenzo Bellini di Bass Culture. Grazie a voi, venite, seguite, stasera ci sarà una James Session DJ Set fino alla mezzanotte, poi ci sarà una rassegna musicale due venerdì al mese, sempre qui all'Officina degli Sordi. Alessandra Bucci ti aspetto, da qui è davvero tutto, buona serata e buona primavera a tutti i nostri telespettatori. Grazie Barbara, vediamo se raccoglierò l'invito. Allora noi siamo in chiusura, come sempre diamo spazio alla nostra rubrica dedicata a Lancia, la rubrica dedicata al mondo delle costruzioni, oggi ospite il presidente di Ancia e Bari e Bat, Beppe Fragasso, intervistato dall'Area del Vino. Buonasera, nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento dedicata all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, è tornato a trovarci il presidente di Ancia e Bari e Bat, l'architetto Beppe Fragasso, benvenuto. Buonasera a voi. Allora Presidente, la scorsa settimana abbiamo parlato di questo protocollo tra ARCA e il Forum delle Legalità dell'Area Metropolitana di Bari, al quale è aderito anche Ance e Bari e Bat, si sono insomma rese operative così le prescrizioni del nuovo codice degli appalti, ma secondo Ance persistono delle criticità, quali? Secondo Ance noi abbiamo presentato al governo uscente un libro bianco e naturalmente ripresenteremo al governo entrante. Le criticità sono essenzialmente due, che il codice degli appalti aveva rinviato a degli strumenti attuativi e che invece non hanno visto la luce nell'arco di due anni. I due argomenti fondamentali su cui noi oggi interveniamo e li creiamo come delle criticità importanti è da una parte le commissioni di gara e dall'altra l'enorme numero delle stazioni appaltanti. Noi abbiamo in Italia qualcosa come oltre 15 mila stazioni appaltanti, incredibile come numero, Cantone si era detto disposto a ridurle al meno del 5%, avremmo dovuto portare questo numero che avrebbe innalzato notevolmente la qualità delle stazioni appaltanti. Oggi ci troviamo di fronte a stazioni appaltanti che non sanno come si fa un appalto molto spesso, oppure lo sanno fin troppo bene e quindi se lo organizzano ed è quello che noi vorremmo cercare naturalmente di evitare proprio nell'ambito della legalità e della trasparenza. La seconda motivazione che ci ha visto fortemente critici è sulle commissioni. Oggi una normativa impone alle stazioni appaltanti, quindi anche ai comuni molto piccoli, a tutti gli enti che non hanno una forza tecnica per poter gestire un appalto, di avere i membri delle commissioni al proprio interno per un motivo ovvio di risparmio. Noi vogliamo che invece le commissioni, così come promesso al tempo del Consiglio degli Appalti, siano fatte di altissimo livello, quindi un po' come i CTU dei tribunali per intendersi, che sia una vera e propria professione, cioè di gente che smette i panni del libero professionista, piuttosto che i panni dell'imprenditore, piuttosto che i panni del professore universitario, quello che sia, e faccia di mestiere il commissario di gara, perché in questa maniera viene individuato, ha un suo codice di comportamento e deve rispondere rispetto a questo codice di comportamento. Ultimo brevemente, è vero che gli attuali livelli regolatori non sono allineati con la direttiva europea e questo vada un po' a penalizzare la competitività delle imprese italiane sul mercato europeo. Non è esattamente così. Il vecchio codice che avevamo, che noi diciamo andava sicuramente meglio di questo, non era allineato con la direttiva europea. Questo codice è nato proprio per allinearci con la direttiva europea, ma purtroppo in Italia noi abbiamo un'aggiunta che non è soltanto quella dei lavori pubblici, quindi rispondere al Ministero dei lavori pubblici, ma l'aggiunta è quella del Ministero dei grazi e giustizia, cioè dobbiamo rispondere a dei criteri di anticorruzione che gli altri paesi non hanno. Allora ci fermiamo, ringrazio il Presidente Diancia Baribat, l'architetto Beppe Fragasso per essere stato con noi. Buonasera a lei e anche a tutti i nostri telespettatori. Grazie ancora, buonasera. Ci fermiamo, ma restate con noi. Tra poco parleremo di emergenza, sicurezza e libertà. Lo faremo con il direttore dell'oratorio salesiano, Redentore, Don Francesco Preidi. Tra poco. Un ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo, partita la primavera astronomica, ma guardate come ancora un po' tutto il Mediterraneo sarà sede di una zona di bassa pressione con rinnovate condizioni di stabilità su buona parte del sud Italia e del basso Adriatico, meglio invece sulle remanenti zone del centro nord con clima asciutto. Difatti la prossima grafica ci conferma questa zona di bassa pressione che coinvolge tutti i mari del sud, pioggia d'acquazione in giornata, parecchia nuvolosità, meglio invece sulle remanenti zone del centro nord con maggiori aperture del cielo. Per quanto riguarda la mappa in sintesi, beh, come abbiamo detto, condizioni di stabilità al nord, in arrivo anche su buona parte di Toscana, Lazio in giornata, anche Umbria, qualche risidofenomeno invece sul basso Adriatico e poi guardate tutte le zone del sud, anche tra Sardegna e Sicilia qualche risidofenomeno, eventi sostenuti con nevicate a quote medio-basse sull'Appennino Meridionale, quindi clima ancora abbastanza freddo per il periodo. Dettagli più precisi sull'app di Trevi Meteo. E allora partiamo dell'emergenza sicurezza al quartiere Libertà, lo facciamo con il direttore dell'oratorio salesiano, Redentore Don Francesco Preite. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E lo facciamo in un momento molto caldo, anche perché il quartiere Libertà sta salendo troppo spesso, purtroppo, agli onori della cronaca, anche delle cronache nazionali. Soprattutto le notizie dell'ultima ora sono furti e aggressioni ad opera di una baby gang. Allora, io le chiedo subito, Don Francesco, lei abbiamo titolato il parroco dei giovani. Sono tutti cattivi questi ragazzi? È ovviamente una domanda provocatoria. Sì, i ragazzi non sono cattivi, sono abbandonati. Abbandonati perché dietro il volto di questi ragazzi non ci sono genitori, non ci sono famiglie e quando ci sono, sono famiglie patologiche. E questo provoca un enorme disagio. In un contesto già di crisi, la rabbia sociale di questi ragazzi non curati, non seguiti, si manifesta purtroppo in queste forme così violente. In questo tempo di crisi c'è bisogno di potenziare i centri applicativi, di potenziare le politiche di prevenzione educativa, di essere forti soprattutto nell'educare, nel non scoraggiarsi, nel stare a fianco a questi ragazzi. Questo credo che sia un messaggio molto importante. Il quartiere Libertà è un quartiere bello, popolare, vivace, effervescente, ha queste sacche di disagio forti, ma c'è anche la potenzialità di un quartiere molto bello, molto solidale e molto popolare. La gente mi ferma per strada e ha paura, ma riconosce anche il grande valore dello stare insieme, del fare qualcosa per migliorare, dell'essere contenti di vivere anche una realtà che provoca, ma allo stesso tempo è anche molto attenta a queste che sono sacche di disagio forti che abbiamo all'interno di un quartiere molto grande. Don Francesco, ovviamente sono condivisibili gli strumenti che lei mette in campo ogni giorno per sottrarre la devianza anche i ragazzi possibili e potenzialmente a rischio. Sta di fatto che però di fronte ad una criminalità che fa molto rumore, la richiesta da parte della cittadinanza è quella di investire di più sulle forze dell'ordine. Un po' è quello che si sta facendo, sorgerà anche la stazione dei Carabinieri nel piano terra dell'ex manifattura, telecamere di videosorveglianza, si parla di apertura o chiusura di una strada. Chiaramente queste sono misure emergenziali ma che non risolvono il problema, giusto? Sì, la riqualificazione urbana è una riqualificazione necessaria nelle periferie della città. Libertà è una periferia al centro, se vogliamo. Ma a fianco alla riqualificazione urbana c'è bisogno, come dicevo, di una riqualificazione educativa e sociale, cioè di un piano organizzato, di intervento, di politica e di prevenzione in questi contesti così effervescenti. Questo credo che sia un tema. Il problema non è la chiusura o meno di una strada, perché il problema non è quello, il problema è investire e dare un'alternativa possibile alla strada, che poi sia aperta, che sia chiusa alla strada, questo è il secondario, e dare un'alternativa possibile a questi ragazzi, cioè non permettere a questi ragazzi di delinguere, non permettere a questi ragazzi di stare per strada, non permettere a questi ragazzi di stare in una condizione di disagio così forte. L'altro giorno ho incontrato una mamma che purtroppo lamentava di una situazione, noi abbiamo una formazione professionale, siamo costretti a fare una selezione tra questi ragazzi che abbandonano l'obbligo scolastico, cioè dopo la terza media, non hanno possibilità, non hanno voglia di andare a scuola, e abbiamo dei corsi di formazione professionale per meccanici e elettricisti. Ebbene, questa madre purtroppo ha visto per la selezione, ne prendiamo 20, il suo figlio non è stato selezionato, e mi diceva, guarda, il mio figlio non è stato selezionato, adesso sta per strada e ieri è stato arrestato perché spaccia. E questa è una ferita grave, non mi va di condannare queste persone, bisogna trovare delle soluzioni alternative, cioè delle proposte che possano dare un senso, un significato di futuro a questi ragazzi, che la strada ovviamente non dà. Don Francesco, come si può frenare l'appeal che a volte la criminalità organizzata esercita sui giovani, soprattutto quando c'è una grande carenza di lavoro? Ecco, il tema del lavoro è un tema centrale, la risoluzione giovanile nei nostri quartieri raggiunge anche il 50%, e allora è evidente che è una lotta impari. È una lotta impari, noi insistiamo molto sulla formazione professionale perché crediamo che sia uno strumento valido. Purtroppo nella nostra regione questo è ridotto a lumicino, cioè abbiamo una formazione professionale molto risicata, molto ridotta, bisogna potenziare nelle periferie la possibilità di dare istruzione, ma soprattutto una qualifica professionale a questi giovani. Se insegniamo un mestiere a questi giovani, hanno possibilità di inserirsi nel difficile mondo del lavoro, altrimenti staremo qui sempre a raccontare episodi negativi, a prendercela con la strada, ma non invece con le possibilità che la società degli adulti ha il dovere di dare a questi giovani, a questi ragazzi. Ecco, allora la questione educativa è quando mai centrale nel panorama delle nostre grandi città e in modo particolare nel nostro quartiere, che è in libertà. E qui Don Francesco che il disagio si trasforma in devianza e se le chiedo anche se la pide della criminalità incide maggiormente su alcune fette, su un identikit di ragazzo. Assolutamente, cioè il ragazzo che non è seguito a casa, è abbandonato, la strada offre pessimi proposte, cioè che cosa offre? Offre delle bande, dei clan che con facili profitti gli chiedono di portare un panetto di droga, un'arma da tenere a casa. È una situazione di disagio estremo, è uno sciacallaggio. Oggi ricorre la giornata della memoria dell'impegno che è stata celebrata poi a Foggia, Libera. Il tema delle mafie e dei clan è ancora purtroppo molto attuale. Non si può tollerare ancora oggi che della gente speculi sulla povertà e sul disagio di persone che purtroppo non arrivano a fine mese, che hanno necessità di lavorare, che hanno necessità di portare il pane a casa. I ragazzi, i giovani sono i più poveri della società, è l'anello più debole. Se non rafforziamo la filiera formativa, la filiera degli oratori, delle aggregazioni, della formazione professionale, noi rischiamo di perdere questa fascia giovanile. Ciò non è ammissibile. Non possiamo permetterci come società degli adulti di lasciare questi giovani nelle mani dei clan e della comunità organizzata. Bisogna condannare questi atteggiamenti, ma bisogna anche dare una proposta valida, seria, alternativa e concreta alle giovani generazioni. Don Francesco, il quartiere Libertà è uno dei quartieri più popolosi, uno dei quartieri con il più alto tasso di natalità e anche uno dei quartieri in cui maggiormente c'è la famosa integrazione, per fortuna, anche con chi viene da altre parti del mondo, eppure è stato dipinto come il quartiere periferia della periferia, cioè il quartiere dove ci sono ancora le zone d'ombra, le zone grigie. Insomma, c'è ancora la possibilità per un riscatto per questo quartiere? Assolutamente sì, il riscatto è possibile, c'è bisogno però di maggiore impegno. L'ho detto all'inizio, lo ripetisco adesso. Da parte di chi, Don Francesco? Insomma, diciamolo, no? Le istituzioni certamente devono intervenire in maniera più convinta. Io apprezzo molto anche il sindaco che viene in periferia, sta vicino ai ragazzi disagiati, ed è una cosa bella per un amministratore a poter, insomma, avere questo contatto. Però questo non basta, bisogna essere concreti, bisogna avere delle proposte più incisive, bisogna avere un piano Marshall per queste periferie, perché altrimenti, insomma, diventano delle bombe a religeria. L'integrazione è un tema, un altro tema, insomma, importante. Spesso in queste periferie degradate, nel disagio nel quale si vive, insomma, l'uomo di colore non diventa una persona da rispettare, ma addirittura da condannare, oppure appunto da... A volte diventa anche un capo espiatorio, questo, dobbiamo dire, è complice anche una politica che, come dire, parla la pancia dei cittadini. Esattamente, sì, bisogna ribaltare, diciamo, il concetto, l'idea che l'uomo di colore venga a rubare il posto di lavoro o venga chissà a fare cosa. L'uomo di colore molto spesso scappa da situazioni e da territori molto difficili e bisogna accogliere e integrare, ma su questo, ovviamente, noi facciamo il possibile, insomma, le istituzioni nazionali o regionali o comunali devono in qualche modo avere una capacità di incisione maggiore su queste problematiche. Don Francesco, davvero 30 secondi prima di chiudere, come si fa a non aver paura quando, insomma, bisogna guardarsi le spalle, no? Don Bosco diceva che tocca ai cattivi tre mare, non ai buoni. Cioè, passeggiare per una strada, per una piazza, è un diritto. Bisogna rivendicarlo e bisogna esserci. Non bisogna essere da soli. Su questo bisogna allargare il noi della comunità. Non bisogna permettere che la paura o l'ansia sociale prenda il sopravvento. Bisogna invece stringersi le mani, bisogna essere solidali, bisogna partecipare alla comunità, bisogna fare in modo che il calore, l'affetto delle persone sia più forte della paura, invece che molto spesso, a volte incute e c'è in queste situazioni. Allora, siamo in chiusura. Ovviamente non potevamo chiudere nel modo migliore quelle parole migliori. Grazie a Don Francesco Prete, direttore dell'oratorio Salisiamo Redentore. Continuiamo a tenere alta l'attenzione, soprattutto sui progetti, come dire, di inclusione, no? E anche per sottotterra la devianza. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, torno a piettarvi. Arrivederci. Grazie a tutti.